Parliamo di quella che poteva essere una vera e propria tragedia quest'oggi lungo l'autostrada del sole tra la Lombardia e la provincia di Piacenza. Luisa. Buonasera Marco, buonasera ai nostri telespettatori. Precisamente il tratto interessato che è rimasto chiuso per oltre due ore tra Piacenza Nord e Piacenza Sud come abbiamo anticipato anche nei titoli per il ritrovamento di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Una tragedia sfiorata dal momento che l'ordigno è esploso prima che gli artificieri lo disinnescassero. Questa mattina sta avviarando alle 8.30, cosa è successo? Ho visto tipo una bombola dell'ossigeno di una saldatrice, tipo una bombola del gas, che è uscita dal terreno e ha iniziato a fumare. Giulio sorride ripercorrendo la disavventura della mattinata, ma non sa di essere vivo per miracolo. Una vera fortuna che la bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata da questo agricoltore non sia esplosa durante l'aratura, ma scoppierà di lì a poco. L'aratura ha di fatti danneggiato l'involucro di protezione facendo fuoriuscire molto del fosforo all'interno. È proprio qui nei campi della Cascina San Sisto, a ridosso della 1 Piacenza Nord, che è stato ritrovato l'ordigno bellico e nell'area si può ancora respirare l'odore acre del fosforo fuoriuscito. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il decimo reggimento del genio guastatori di Cremona. Quella semi nascosta nelle zolle di terra era niente meno che una bomba d'aereo americana dal peso di 150 kg, di cui 80 solo di fosforo. Gli artificieri hanno aspettato che smettesse di fumare per imbragarla e farla brillare in un luogo poco distante l'autostrada. L'ordigno è però esploso durante il trasporto. Nessun ferito, ma gli stessi militari riconoscono che si sia sfiorata la tragedia. Tanto più che a soli 50 metri scorre il traffico della 1, tra le 14 e le 16, paralizzata da oltre 3 km di coda.